In questa unità didattica vediamo un programma prologue per indurre delle regole che servono per classificare degli oggetti. Dunque ci mettiamo in un contesto in cui supponiamo che l'input sia venuto da un programma di visione che ha inquadrato una serie di oggetti che appartengono a categorie diverse e ha estratto delle caratteristiche, delle feature. Nel nostro esempio le feature sono tre, gli attributi, la taglia dell'oggetto che è stato inquadrato, la forma e il numero di buchi che sono presenti all'interno dell'oggetto. Ciascuna di queste tre feature possiede un elenco, una lista di possibili valori. Quindi le feature le chiamiamo attributi e i valori sono elencati in corrispondenza del singolo attributo all'interno di un database prologue. Nell'esempio che abbiamo fatto nella unità didattica precedente dovevamo riconoscere dei funghi, i parametri erano due, larghezza, l'altezza e i parametri potevano prendere valori all'interno di un campo di valori reali. Qui invece i parametri, cioè gli attributi, taglia, forma e buchi, possono prendere i valori solo da un elenco, una lista di possibili valori. Quindi abbiamo un contesto in cui i valori sono enumerativi e quindi quello che andremo a fare è proprio un riconoscimento che non è una regressione, come abbiamo visto nel caso in cui dovessimo andare a stimare la funzione H, essendo la funzione H una funzione numerica, ma sarà un insieme di regole, come stiamo per vedere, che definiscono in base a possibili coppie attributo valore la classe di appartenenza dell'oggetto. Le classi, nel caso nostro, sono cinque perché abbiamo, che sono stati inquadrati e quindi dobbiamo riconoscere, solo cinque tipologie di oggetti diversi, forbici, penne, chiavi, bulloni e dadi. Quindi supponiamo di aver fatto partire il nostro programma di visione e aver raccolto in un testo che poi abbiamo trasformato in un database prolog, il risultato delle osservazioni che verranno a costituire il nostro training set. Abbiamo cioè qui inquadrati 12 possibili oggetti. A ciascun oggetto corrisponde una clausola che fa parte della decisione del predicato esempio in cui nel predicato c'è il primo argomento che è la specifica della classe di appartenenza dell'oggetto. Il secondo argomento è la specifica attributo per attributo del valore che è stato individuato dal software di visione. Quindi per esempio è stato inquadrato un dado, questo che era il dado è stato il trainer che l'ha definito come tale, quindi abbiamo un training set, questo è apprendimento supervisionato e il programma ha definito per questo oggetto dado la taglia small, la forma di tipo compatta e il numero di buchi 1. Dopodiché per esempio abbiamo inquadrato un bullone, taglia small, forma oblunga, buchi nessuno. Ecco, allora adesso noi che cosa dobbiamo fare? Da questo training set dobbiamo andare a definire le classi e cioè dobbiamo andare a effettuare quest'operazione qui e cioè di andare a definire data una serie di valori per gli attributi definire qual è la classe di appartenenza di quell'oggetto. Quindi dobbiamo definire le classi a partire dal training set. dobbiamo cioè andare a introdurre nel database del nostro programma che quindi apprenderà delle clausole di questo tipo, clausole in cui al primo argomento abbiamo la specifica della classe e al secondo argomento una lista di possibili liste di coppie attributo valore. Per esempio, dado, al dado corrisponde questa sequenza, questa lista di una sola lista, taglia uguale small, buchi uguale 1. Cosa significa questo? Significherebbe, se il nostro programma introducesse questa regola nel database, che avremmo appreso che un dado, un oggetto è un dado, cioè la classe dei dadi, è caratterizzata dal fatto di avere una taglia piccola e un buco. Un oggetto è un dado, se la sua taglia è piccola e, vedete questo e in verde, corrisponde a questa virgola qui in verde, se ha un buco. In generale però, il programma potrebbe caratterizzare una classe come avente più possibili sequenze di liste di coppie attributo valore, che la possono identificare. Per esempio, nel caso delle chiavi che sono rappresentate qui in figura, abbiamo che alcune chiavi sono caratterizzate dal fatto di avere una forma oblunga e un buco. Questa e questa. Ma c'è un'altra chiave che ha una forma che non si può dire oblunga e quindi corrisponderebbe al valore altra per l'attributo forma e di buchi ne ha due, perché c'è anche l'anello portachiave. Allora, nel caso in cui per specificare una classe sia necessaria più di una lista di coppie attributo valore nel caso quindi per esempio della chiave, in cui potremmo dire che un oggetto è una chiave se la sua forma è oblunga e se ha un buco oppure se la sua forma è altra e ha due buchi bene, nel caso in cui la categoria, cioè la classe, sia da specificare in maniera così articolata noi appunto sfruttiamo il fatto che specifichiamo la classe come una lista di liste in cui sostanzialmente la lista esterna è in or la lista invece interna ha gli elementi in end cioè le virgole delle liste interne sono da considerarsi come delle congiunzioni le virgole, qui rappresentate in rosso che separano le liste all'interno della lista sono da considerarsi degli or e quindi sostanzialmente noi specifichiamo la classe con una espressione logica messa in forma normale disgiuntiva questo è quello che dovrà fare il programma di apprendimento dovrà produrre essendo la funzione caratterizzata da parametri che hanno dei valori numerativi dovrà produrre una classica classificazione una volta che il programma avrà prodotto la classificazione dovremo utilizzare la classificazione per riconoscere altri oggetti e quindi andremo ad utilizzare il programma di apprendimento o in fase di testing per valutare le prestazioni o in fase proprio di produzione cioè in pratica una volta che abbiamo capito, definito, il programma ha definito le classi come sono riconoscibili le classi in base alle liste di liste di coppia attributo valore a questo punto poi dovremo utilizzarlo questo programma che ha appreso e come lo si utilizzerà? semplicemente si procederà ad inquadrare altri oggetti e quindi a estrarre le feature di questi altri oggetti per esempio un oggetto che ha una taglia small e una forma oblunga e un buco il programma dovrà rispondere dicendo a quale classe appartiene l'oggetto inquadrato e questa fase del programma potrebbe essere svolta dal programma che abbiamo qui dal pezzo di programma che abbiamo qui nella slide che cosa fa questo programma? passiamo al programma l'oggetto intendendo con l'oggetto la sequenza la lista di coppie attributo valore quindi questo lo diamo in input e lui ci dovrà rispondere in output qual è la classe a cui appartiene come farà a farlo? andrà innanzitutto a cercare una classe nel database che avrà costruito il programma nella fase precedente nella fase di training andrà a prendere la descrizione che sarà un qualche cosa come abbiamo visto di questo tipo quindi sarà una lista di liste andrà a prendere una lista di liste per esempio prenderebbe forma uguale poi la 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 che è stata passata al primo argomento come si fa a far questo? mediante un predicato soddisfa che va a vedere se nella lista passata al primo argomento cioè nella lista passata al secondo argomento c'è una coppia attributo valore valore x e se c'è anche nella lista passata al primo argomento una coppia medesima attributo altro valore e che sia altro valore specificato successivamente se tutte e tre queste cose sono vere allora soddisfa fallisce cioè in pratica cosa va a controllare questo soddisfa? va a controllare che non sia vero che la congiunzione di coppie valore attributo ha un attributo con un valore che è altro rispetto al valore che ha il medesimo attributo all'interno della descrizione dell'oggetto inquadrato quindi supponiamo che questo è l'oggetto inquadrato la la specifica delle feature dell'oggetto inquadrato e supponiamo che siamo andati a prendere nel database la descrizione della chiave che abbiamo supposto dalla slide precedente si inquadrato aveva forma uguale a blunga v uguale 1 cosa succede? succede che ha trovato una coppia attributo valore forma uguale a blunga in congiunzione e ha trovato forma uguale a blunga in oggetto e ha visto che valore di x diverso dal valore di y è falso perché era oblunga oblunga e quindi essendo falso qui c'è il not è fallita la la congiunzione ma c'è il not e quindi not not quindi soddisfa successo in pratica non non è accaduto che si è trovato un attributo nell'oggetto passato e nella congiunzione che ha sia nell'oggetto e nella congiunzione dei valori diversi e quindi in pratica si è riconosciuto effettivamente una chiave in realtà l'oggetto in particolare che abbiamo inquadrato ha un attributo in più la specificità di un attributo in più che però stiamo supponendo dall'esempio che stiamo facendo che il programma di apprendimento ci ha restituito una specifica per la classe chiave in cui è sufficiente supporre che la forma sia oblonga e che abbia un bocco solo per individuare l'appartenenza alla classe delle chiavi il fatto che la taglia sia small è non significativo è chiaro che il programma stiamo supponendo che il programma che fa tutti e tutti però uno di che abbiamo considerato nel nostro esempio magari poteva essere necessario ma non avrebbe combinato perché avremmo avuto forma uguale altra nella specifica della chiave nella taglia comunque non è significativo per riconoscere la chiave nell'esempio che stiamo facendo allora questo è quello che dovrebbe fare il nostro programma nel caso in cui la classificazione è stata prodotta però adesso dobbiamo vedere appunto la classificazione cioè dobbiamo andare a vedere come si generano le regole a partire dagli esempi nel training set dunque un modo abbastanza intuitivo il più intuitivo possibile per capire come generalizzare la specifica delle caratteristiche attributo valore di una classe dagli esempi da un database di esempi dal training set è questo qui cioè le regole che vanno a definire la classe dovrebbero essere regole che coprono tutti gli esempi positivi presenti nel training set di quella classe per esempio se stiamo considerando la classe dado e abbiamo non so tre dadi nel training set la regola che produciamo per definire la classe dado deve coprire tutti e tre gli esempi tutti e tre i dadi che abbiamo nel training set e nessuna forbice nessun bullone nessuna penna nessun altro esempio negativo nessuna chiave il primo caso che copra tutti gli esempi positivi viene dominato appunto completezza il secondo caso che non copra esempi negativi correttezza e dunque l'algoritmo in generale potrebbe essere delineato in questa maniera all'inizio non sappiamo minimamente quali possono essere le regole per caratterizzare una determinata classe ma abbiamo gli esempi del training set dunque fin quando il training set contiene degli esempi positivi della classe che vogliamo apprendere cioè di cui vogliamo apprendere le regole allora andiamo a determinare una regola mediante questa funzione induce una regola e quindi determiniamo una regola aggiungiamo la regola alle regole che avevamo già trovato precedentemente poi eliminiamo dal training set tutti gli esempi che sono coperti dalla regola che abbiamo appena indotto e andiamo avanti e continuiamo a ciclare fin quanto che l'algoritmo contiene degli esempi positivi per quanto riguarda la classe cioè supponiamo che stiamo trovando la regola per definire la chiave cosa significa che è una chiave mediante questa a primo passaggio induciamo una regola per esempio copre quest'altro caso ma non copre quest'ultimo caso di chiave l'ultimo qui nel training set perché la forma è altra nell'ultimo caso di chiave e quindi rimane questo esempio positivo nel training set gli altri due quindi rimane ancora un esempio l'altro esempio sarà formato Q2 vedete che nel nostro esempio quello che idealmente dovrebbe fare ma il nostro algoritmo però come vedremo soprattutto nella prossima unità didattica in realtà se i training set sono rumorosi potremmo doverci fermare prima che abbiamo terminato di soddisfare tutti gli esempi positivi nel training set supponiamo che il training set contiene non 12 esempi come nel nostro caso ma ne contiene 12.000 e non 3 possibili attributi ma ne contiene 30 di attributi con questo poi non è importante ma con anche eventualmente dei valori numerativi molto numerosi potrebbe il training set essere un training set che non ci consente di poter gestire tutti gli esempi positivi nel senso che dovremmo rinunciare eventualmente e dovremmo supporre che alcuni esempi nel training set non sono corretti oppure sono delle eccezioni estremamente rare per cui non li prendiamo in considerazione a oggetti cioè che sono stati considerati appartenenti a una categoria dal training set ma in realtà non è scontato che possono essere considerati tali oppure ci potrebbero anche essere degli esempi nel training set che non sono stati catalogati come appartenenti a quella categoria ma un po' ci potrebbero in qualche maniera rientrare per applicazioni pratiche noi potremmo anche dover rilassare sia questo controllo nel while che il controllo nessun esempio negativo all'interno della funzione induce una regola ma questo lo discuteremo un po' meglio nella prossima unità didattica dunque quindi andiamo a vedere il nostro programma prolog come si potrebbe delineare si sarà una clausola in partenza che apprendi che darà il nome di una classe per esempio non so dado chiave eccetera e quindi dovrà apprendere le regole per questa classe raccoglierà innanzitutto tutto il training set in una lista che si chiamerà esempi e poi farà partire il programma vero e proprio che dovrà andare a concepire la descrizione quindi la lista di liste che corrisponde alla classe che è stata passata in input alla luce degli esempi che sono stati raccolti dal training set poi il nostro programma scriverà sull'output la descrizione di questa classe e poi farà l'operazione che è banale però importantissima e cioè quella di far acquisire al programma la conoscenza circa l'apprendimento che è stato svolto cioè in pratica il nostro programma dopo che apprendi avrà funzionato aggiungerà a se stesso questa clausola in cui in corrispondenza di quella classe che precedentemente era ignota cioè non si sapeva quali fossero descrizioni questa clausola che specifica che per quella classe questa è la descrizione la prossima volta che si dovesse lanciare questo questo apprendimento questo farebbe esattamente la stessa cosa però non sarà necessario lanciare apprendi potremmo utilizzare direttamente la classificazione ottenuta per andare a vedere qual è la classe dell'oggetto successivo oggetto inquadrato come abbiamo detto precedentemente quindi adesso il progetto di applicazione lavora più o meno come abbiamo cercato di di dire nell'esempio precedente nell'algoritmo precedente ha tre argomenti esempi e la lista degli esempi nel database classe è stata data in input è il dado per esempio descrizione è quella che deve essere prodotta dal nostro programma per coprire tutti gli oggetti della classe in esempi in base a quel che abbiamo detto prima se nessun esempio in esempio appartiene alla classe allora la descrizione sarà una classe vuota quindi cioè sostanzialmente abbiamo finito a coprire gli esempi non dobbiamo aggiungere più nessuna descrizione altrimenti la descrizione sarà una lista in cui c'è una congiunzione di copie attributo valore e poi ci sono altre liste congiunzioni di copie attributo valore perché abbiamo detto che in generale una descrizione sarà una lista di liste magari una lista contiene una lista sola nel caso per esempio del dado ma in generale sarà una lista di liste allora la singola il singolo elemento di questa lista di liste è una congiunzione cioè è una lista di copie attributo valore che copre almeno un esempio positivo e nessun esempio negativo per esempio stiamo classificando il dado quindi questa copie attributo valore deve coprire almeno un esempio di dado per essere preso in considerazione cioè questo è vero per tutte le copie attributo valore che fanno parte della congiunzione e nessun esempio di una classe che non è il dado e la lista come tale non deve coprire non la singola copia attributo valore cioè quella congiunzione di copie attributo valore deve corrispondere ad almeno un esempio di dado e a nessun esempio di classe che non sia un dado di alcun esempio che non sia dado e le congiunzioni le altre congiunzioni come si ottengono come abbiamo visto prima rimuoviamo dagli esempi quello che abbiamo utilizzato per definire congiunzione e e continuando facendo ricorsione sull'algoritmo fin quando non abbiamo finito tutti gli esempi positivi che appartengono in esempi tutti gli esempi di quella classe che c'è dentro la lista esempi cioè in pratica eccolo qua sotto lanciamo quindi la prima clausola è il tappo se non c'è di quella classe all'interno degli esempi nessun esempio stop non dobbiamo fare nulla altrimenti andiamo a a prendere una congiunzione di coppie attributo valore a partire dagli esempi che corrisponda come abbiamo detto prima a quella classe rimuoviamo dagli esempi gli esempi che abbiamo utilizzato per produrre questa congiunzione di coppie attributo valore e ricorriamo sul resto degli esempi ok allora adesso dovremo andare utilizzare il nostro swipe log questo prima serve per riconoscere un intento da una specifica che viene data compiliamo e andiamo a utilizzare il programma per esempio gli chiediamo di classificare un oggetto prendo un esempio da qui taglia uguale small forma uguale oblunga ecco un oggetto che fosse caratterizzato da queste fiscia percepite a quale classe apparterebbe e se io lancio il programma e qui c'è un errore di sintassi ma appunto sì il programma non funziona perché al momento non esiste nessuna nessuna come si vede qui dal 3 che è partito non esiste nessuna clausola che corrisponde a questo predicato quindi in pratica non ha trovato nessuna clausola che corrisponde a questo predicato perché effettivamente non è stato fatto nessun apprendimento quindi quello che noi dobbiamo fare adesso è lanciare il classificatore cioè il programma che apprende e produce la classificazione abbiamo 5 categorie di oggetti quindi una per una gliele possiamo far apprendere tutte per capire adesso il senso di cosa fa il programma apprendi dagli esempi che ci sono nel database i 12 esempi apprendi qual è la specifica della classe dado la classe dado secondo questo programma è costituita è caratterizzata dall'avere una forma compatta ed da avere un buco invece il bullone è caratterizzato da avere nessun buco e una taglia piccola le forbici alla luce del training set le forbici hanno tutte due buchi e una taglia large nessuna specifica circa la forma e poi abbiamo la chiave la penna la penna è caratterizzata dal non avere buchi da non avere buchi e da avere una taglia large e da ultimo le forbici le forbici sono caratterizzate dall'avere due buchi buchi e una taglia e una taglia dunque abbiamo una forbice qui che ha due buchi e una taglia large un'altra che ha due buchi e una taglia large non ci sono altre forbici buchi e la forma e la forma una è oblonga una è altra e quindi nel nostro data set il nostro programma per quanto riguarda le forbici e quindi dado bullone forbici penna le forbici in realtà le avevamo già prodotte quello che ancora mancava era la chiave ecco la chiave come abbiamo visto anche nel nostro esempio è caratterizzata o dal fatto di avere una forma altra una taglia small oppure di avere un buco e una forma oblonga questo lo potete seguire qui guardando il database adesso dobbiamo cercare di capire come ha funzionato il nostro programma quindi torniamo a examinarlo apprendiamo questo apprendiamo di attività di valore di quella classe di un'altra quindi innanzitutto dobbiamo verificare come tappo della ricorsione che non ci siano esempi di altre classi e quindi questo è il controllo che andiamo a fare andiamo a prendere nella lista degli esempi un esempio un esempio di una classe che sia diversa dalla classe in questione se questo è vero se c'è una classe che è diversa dalla classe che stiamo caratterizzando questo noto fallisce e quindi si va oltre se invece non ci sono più esempi che appartengono ad altre classi abbiamo finito di lavorare per cercare la specifica della singola congiunzione quella che sarà residua qui al terzo argomento che sarà effettuata nella clausola ricorsiva appendi conge che va a alla luce degli esempi per quella classe va a scegliere una coppia attributo valore e dopodiché farà un'operazione di filtraggio andrà a cercare tutti gli esempi all'interno del dataset corrente che soddisfano quella coppia attributo valore e sarà esempio 1 questa la lista degli esempi che soddisfano quella coppia attributo valore e poi si ricorre su esempio 1 sempre con la medesima classe e si va a determinare le altre coppie attributo valore come viene effettuata la coppia attributo valore da scegli cond si lancia un find all su questo e va a cercare le coppie attributo valore che sono accettabili dopo vediamo cosa si significa accettabili e li ordina queste coppie attributo valore in base a un punteggio che è un'euristica che utilizza questo programma che servirà per ridurre l'elevata combinatorietà di questo programma di questo di questo lavoro e poi successivamente avendo definito una gradatoria di possibili coppie attributo valore che possono essere candidate a far parte della di questa con della congiunzione che deve andare a far parte della descrizione della classe supponendo quindi di aver effettuato un ordinamento in base a un'euristica che adesso è contenuta dentro il predicato punti che adesso non la rimandiamo un attimo andiamo a prendere con questo predicato best la migliore coppia cioè quella che ha un punteggio migliore per quanto riguarda l'euristica che ancora non abbiamo specificato che potrebbe essere potrebbe essere il dado allora innanzitutto andiamo come abbiamo visto prima a raccogliere tutti gli esempi e poi facciamo partire il predicato proprio che deve provvedere alla classificazione va a vedere se all'interno di tutti gli esempi non ci sono esempi con il dado ovviamente questo fallisce perché ci sono esempi con il dado e quindi adesso deve apprendere una possibile congiunzione di coppia attributo valore per il dado andiamo a vedere se in esempi non ci sono più esempi di altre classi questo ovviamente la classe in questione è dado va a cercare esempi va a verificare effettivamente che non ci sono esempi di altre classi questo fallisce e quindi si passa alla clausola ricorsiva che deve andare a definire la congiunzione di coppia attributo valore per il dado gli esempi sono ancora tutti gli esempi del training set iniziale la classe è il dado deve definire cond la congiunzione di attributo di valore quindi prima scegli cond fa partire il find all che lancia quel punti di cui parlavo prima punti stiamo sempre parlando della classe dato gli esempi sono sempre gli stessi deve andare a cercare una coppia attributo valore candidata a far parte della congiunzione per la descrizione del dado e quindi un candidato lo cerchiamo in questa maniera andiamo a prendere un qualunque attributo il primo taglia ne prendiamo i possibili valori small large e poi quindi valori small large e poi andiamo a vedere se il prendiamo il primo con il member uno fra small e large prendiamo con il member small prima poi dopo non determinissimamente prenderemo large andiamo a vedere se taglia uguale small è un attributo adatto per far parte della congiunzione di coppia attributo valore che può essere utile per caratterizzare la classe dado e adatto eccolo qua sotto quindi andiamo a vedere se taglia uguale small è una coppia attributo valore adatta per far questo bisogna che essere sicuri che ci sia un qui andiamo a cercare un esempio all'interno degli esempi con una classe e una un oggetto che appartiene ad una certa classe in questo caso abbiamo trovato la classe dado a cui corrisponde negli esempi la specifica taglia uguale small forma uguale compatta buchi uguale 1 ma classe x è uguale a dado e quindi non va bene dobbiamo cercare un altro esempio quindi troviamo un bullone adesso classe x bullone è diverso dal dado e quindi questo va bene per quanto riguarda il bullone che c'era negli esempi abbiamo che la taglia è small la forma è oblung a buchi nessuno dobbiamo andare a vedere se at vale che è taglio uguale small soddisfa questa lista taglio uguale small la soddisfa quindi soddisfa ha avuto successo not soddisfa ha fallito quindi dobbiamo trovare un altro adesso andiamo a vedere un altro esempio troviamo una chiave chiave diverso da dado chiave taglio uguale small di nuovo e quindi taglio uguale small soddisfa anche la chiave andiamo a cercare un altro esempio quello era un dado adesso un'altra chiave taglio uguale large forma uguale oblunga buchi uguale taglio uguale small soddisfa la chiave no e quindi noto soddisfa ha successo e quindi taglia uguale small è preso come una candidata una coppia attributo valore candidato a far parte della congiunzione di attributi che corrisponde che potrebbe corrispondere alla descrizione della classe dado e quindi soddisfa a questo punto fallisce quindi noto soddisfa successo è quello poco poco fa avviene e cioè che effettivamente taglia uguale small è candidato a questo punto taglia uguale small lo prendiamo e a questo punto andiamo a filtrare in esempio tutti quelli che soddisfano in esempi chiedo scusa e produciamo quindi esempio uno tutti quelli che soddisfano taglia uguale small allora esempio uno a questo punto sarebbe esempi filtrato da avere solo quelli che hanno nella specifica taglia uguale small a questo punto andiamo a vedere quanti sono che sono 7 contiamo dentro quanti sono i dadi qui abbiamo un dado poi un bullone poi un esempio poi altri che non vediamo comunque contiamo i dadi i dadi sono 3 su 7 quindi n post 1 è maggiore di 0 sì e poi facciamo questo strano calcolo per il momento è strano andiamo a vedere punti o punti definiamo la variabile punti come rapporto di numero dei dadi più 1 diviso numero degli esempi rimasti più 2 e quindi questo valore riporta questo punteggio qui e questo punteggio viene utilizzato alla coppia viene associato alla coppia taglia uguale small taglia uguale small c'è quel punteggio che abbiamo visto prima e poi ne andiamo a cercare altre di coppie e e così facendo alla fine siamo ancora dentro il find all troviamo tutte le possibili coppie candidate con questa strana euristica che ancora non abbiamo appena non abbiamo ancora chiarito e alla fine e alla fine abbiamo un vediamo se riusciamo ad arrivare alla fine del find all ok il find all a questo punto andiamo a prendere la migliore dunque il find all aveva prodotto avs che sarebbe questa sequenza taglia uguale small forma uguale compatta b più uguale 1 con il best si va a prendere il lat val forma uguale compatta perché è quello che ha il valore maggiore di tutti 0.66 che è maggiore di 0.57 e a questo punto andiamo a filtrare prendiamo tutti quelli che hanno la forma uguale compatta e poi si cicla in questa maniera allora e alla fine abbiamo prodotto la risposta e il dado ha forma compatta e ha un buco questo non abbiamo fatto il stress della seconda specifica ora prima di andare all'euristica diamo un senso completo di quello che abbiamo fatto chiaro che adesso se noi per esempio lanciassimo il goal classifica taglia uguale small facciamo a questo punto taglia facciamo forma uguale compatta buchi uguale 1 ecco lui ci dice ovviamente a questo punto che l'oggetto che stiamo inquadrando e corrisponde a quelle caratteristiche che è un dado gli chiediamo se può essere anche altro no è un dado perché ha trovato ha risposto due volte perché ha trovato due asserzioni perché l'ho rifatto con il 3 supponiamo di fare però un'altra un'altra percezione taglia uguale small forma oblunga non c'è nessun oggetto che corrisponde noto a queste però forse era meglio che mettevo forma con eh no avevo messo forma con la F maiuscola ovviamente quindi forma oblunga e taglia small è un bullone oppure potrebbe anche essere una chiave perché non abbiamo specificato il numero di buchi ecco vedete che il nostro programma ha sta apprendendo ha appreso le regole per classificare gli oggetti che risultano dalle percezioni torniamo al alla nostra euristica che stiamo esaminando ha una complessità esponenziale ehm perché eh ha un elevato grado di 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 eh ha un'esplosione combinatoriale presenta notevolissima perché eh abbiamo per ogni possibile copia di attributo valore dobbiamo andare a vedere se è potenziale candidato dobbiamo vedere se è un discrimina eh quella coppia eh e se è sufficiente discriminatoria in base a quelle che sono le possibili scelte di altre combinazioni attributo valore che possiamo fare in seguito allora se andiamo a esaminare tutti i casi il tutte le possibili casi abbiamo che il programma diventa troppo complesso quindi quello che è è stato fatto in questo programma è quello di eh utilizzare una strategia di ricerca incompleta eh fatto una una ricerca locale in pratica che cosa è successo è che ogni volta l'algoritmo grazie al al predicato punti che abbiamo visto poco fa determina la migliore coppia attributo valore da aggiungere alla congiunzione allo stato attuale quella che viene esaminata alla stata attuale rigettando le altre possibilità cioè una volta che ha scelto la coppia attributo valore non va a vedere quella che è reputata la migliore quella più probabilmente candidata a essere la scelta giusta non va a vedere le altre non considera le alternative che avrebbe avuto e questo lo fa in questa maniera in pratica implementa così un climbing un grid search che può portare all'incompletezza nel senso che non che quella coppia attributo valore non appartiene alla specifica della classe ma poteva semmai essere inutile nel senso che si poteva avere una descrizione della classe una sequenza di coppia attributo valore più piccola poteva essere inutile nel senso che un sottoinsieme di quella lista di coppia attributo valore poteva essere sufficiente a caratterizzare la classe e quel particolare coppia attributo valore poteva essere inutile solo in questo senso è incompleto ma non è scorretto il risultato che si tira fuori in pratica da che cosa è avvenuta quella strana formula quella strana formula veniva da questo a un certo punto noi dobbiamo prendere una coppia attributo valore che alla luce di quelli che erano gli esempi 1 cioè quelli che venivano discriminati da quella coppia attributo valore che ne erano 7 non so se ricordate nell'esempio poco fa l'abbiamo visto erano 7 complessivi dai 12 erano passati a 7 di cui 3 erano erano del dado quindi sostanzialmente quella scelta di coppia attributo valore mi selezionava un insieme di 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 esempi di 7 esempi 3 dei quali erano positivi quindi avevamo 3 settimi di probabilità di poter di poter scegliere quella coppia attributo valore come caratterizzante o una di quelle meglio caratterizzanti la descrizione della classe poteva essere infatti dopo ne abbiamo cercato un'altra di coppia che quest'altra coppia avrebbe magari selezionato non 7 ma 5 esempi dei 12 iniziali di cui però di quei 5 quella coppia lì di quei 5 4 magari 3 per esempio tutte e 3 erano pure dato ora 3 su 5 è una probabilità maggiore di 3 su 7 e quindi l'euristica è meglio prendere 3 su 5 che 3 su 7 però qui chi ha scritto questo questo algoritmo che è riportato nel libro del professor Ivan Bratko ha anche apporto un si ha introdotto un correttivo perché per esempi di piccola cardinalità come quelli che stiamo prendendo in considerazione 7 10 12 questo rapporto numero di esempi positivi sul numero di esempi selezionati potrebbe essere troppo influenzato dalla dalla da n piccolo e quindi per motivi di per correggere questa eccessiva determinazione che viene fatta nel caso dei numeri piccoli si preferisce avere come il rapporto non n piccolo su n grande dove n piccolo il numero di esempi positivi e n grande il numero di esempi filtrati totali ma n piccolo più 1 su n grande più 2 questa è una correzione laplasciana è quella che è stata operata nell'algoritmo che abbiamo appena visto dunque in pratica a questo punto direi che l'esempio è finito nella prossima unità didattica quindi abbiamo visto come classificazione poi utilizzata per forma o prunga oppure non so bucchi uguale 1 non so per questo l'abbiamo già fatto no vedrete che è stato in grado di capire che è un dado anche dal fatto che la taglia è piccola e ha un buco solo prima invece aveva riconosciuto un dado dal fatto che la forma era compatta e aveva un buco vediamo se è anche un'altra cosa potrebbe anche essere una chiave quindi c'è incertezza bene allora abbiamo imparato quindi come può funzionare un semplice programma di classificazione in prolog dove le classi sono specificate dalle regole se allora nella prossima unità didattica vedremo un'altra tecnica molto usata nell'apprendimento nella classificazione che è la la induzione di alberi di decisione e anche per quella tecnica lì vedremo un programma in prolog dell'apprendimento di di di